...di amicizia e di stima nei confronti di Umberto Bossi e di tutti gli amici che hanno provato in tutti i modi a dividerci, ma non ci sono riusciti e non ci sono riusciti. Insieme completeremo anche il federalismo istituzionale, dando ai territori la giusta ebola di autonomia decisionale. Questo farà bene al sud come al nord e garantirà la crescita di una classe dirigente più responsabile ed efficiente.